Eccoci qua, ben ritrovati su Meteo Giuliacci. Un saluto da Giuseppe Davites. Vediamo assieme cosa accadrà nella giornata di mercoledì. Beh, avremo ancora tanto freddo, gelo al nord, temperature negative e comincerà a cambiare un po' il tempo. Dove? A partire dalle due isole maggiori, nella seconda parte del giorno avremo un rialzo delle temperature, ma in mattinata ancora delle piogge e delle nevicate sino a quote basse. Tenderà comunque a migliorare la situazione al sud, anche se rimarrà un po' di instabilità. Qualche ancora spruzzata di neve sarà possibile sul medio e basso, guardate, versante adriatico. Sì, verso la Puglia meridionale addirittura, però comunque fioccate passeggere. Attenzione, verso sera tornerà a peggiorare sul versante tirrenico, con nuove piogge in arrivo, ma tenderà soprattutto a peggiorare sul nord ovest e sulla, guardate, Liguria. Qui avremo già le prime nevicate. Nevicate sin verso la pianura, quindi non ci sarà differenza di quota. Nevicate che poi nella giornata di giovedì tenderanno a ricoprire, a coinvolgere un po' tutto il nord Italia. Io per ora, cari amici, ho concluso, mi raccomando, seguiteci, ci riaggiorniamo come sempre nel prossimo appuntamento meteo.